Perfetto, in questo video andremo a vedere il problema che molte persone, anzi la maggior parte delle persone hanno quando cominciano dropshipping. In pratica io ogni giorno ricevo dei messaggi, non dico milioni di messaggi, dei messaggi di alcune persone che mi dicono Ehi, sono in questa situazione, come posso fare? Ho pochi soldi, ho tanto tempo, ho tanto tempo a disposizione, ho pochi soldi, ho totto di soldi, magari 600 euro cosa posso fare, ho 2000 euro cosa posso fare, che mi consigli e così via. Quindi non sanno bene come cominciare. In questo video andremo a vedere esattamente questo, in particolare tre situazioni che molte volte vedo che accadono, che andremo a vedere ora fra poco. Detto questo, possiamo cominciare. Ok, ora prima di cominciare, una cosa molto importante, questo video è sponsorizzato da HeartDig, che sarebbe la mia agenzia digital marketing, bellissima, super fighissima e poi com'era, levissima quella di là. In pratica, se hai uno store di e-commerce oppure una semplice azienda che vuoi far crescere con la pubblicità online, vuoi imparare a prendere più clienti in questo mondo del marketing online, vai su app.artdig.com e lì troverai un sacco di corsi fatti da me, su Facebook Ads, Google Ads, YouTube Ads, Google Shopping Ads e tutto il resto, tutto quello che riguarda il mondo del digital marketing. Un po' ci sono già, un po' ci vanno a breve, comunque, puoi dare un'occhiata tu in base a quanto vedi questo video. Inoltre, una cosa molto importante, tutti i corsi hanno una garanzia per il rimborso del 100%, questo vuol dire che se tu non ti piaccia, lo compri e non ti piaccia, puoi ricevere il 100% dei soldi che hai speso indietro. In più, avrai un supporto personalizzato, se tu hai un dubbio o domanda, ti risponderemo io in persona o qualcun altro nel mio team. Avrai anche accesso tutti i vari PDF e documenti che uso personalmente con i miei clienti e poi, infine, alla fine, quando finire il corso, riceverai anche un certificato di compimento. Quindi, se vuoi darci un'occhiata, vai in descrizione, c'è il link o nel primo commento, oppure vai cercati a tenere su Google app.artdigital, con la H davanti e la E, punto com. Quindi app.artdigital.com. Continuiamo. Ora, una cosa molto importante, nella sezione delle playlist trovi tutti i miei corsi online, gratis, che ho fatto sul dropshipping, su Shopify, durano 3 ore, 2 ore e mezza, 3 ore e mezza. Li puoi vedere se sono gratis, così non ti faccio pagare tutti i 1000, 2000 euro, quello che fanno tutte queste persone. Inoltre, in descrizione c'è il link, però c'è il gruppo, Gravis, su Facebook, si chiama e-commerce, i public itali. C'è il link in descrizione, se voi siamo già quasi 100, al momento in cui sto facendo questo video, in modo tale che se hai un dubbio, una domanda o un problema, noi parliamo e risolviamo il problema. Ora, qual è questo problema che molte persone hanno? Un po' già l'ho spiegato all'inizio. In pratica, quello che io vedo molte volte queste persone è che mi dicono, vedono il corso, sanno tutte le informazioni, però quello che non ti posso dare in questi corsi è rispondere alla tua situazione attuale. Cioè ogni situazione, la tua situazione, non mi viene la parola, è diversa dalla situazione che ha qualcun altro, qualcun altro che mi scrive. Perché magari tu hai lavoro e magari appunto hai pochi soldi, però hai sei tempo. Un'altra persona non ha un lavoro, magari appunto non ha lavoro e cerca di fare appunto qualcosa di un'occupazione che appunto gli faccia fare dei soldi subito, un'altra persona magari è uno studente che ha un po' di soldi messi da parte però a sei tempo, quindi ogni situazione è diversa. Naturalmente quello che non ti posso dire nel corso, non ti potrò dire mai, è appunto dire tu devi fare così, devi fare così, devi lasciare il tuo lavoro e così via. Perché non posso farlo, a parte perché non ho, diciamo, la conoscenza giusta per consigliare. In questo periodo in cui sto facendo questi video ho avuto modo di capire un pochettino quali sono le diverse situazioni di ogni persona, appunto, di ogni persona che ha diverse situazioni. Naturalmente non posso mai prevedere ogni situazione, però ho già capito su per giù che situazioni hanno le persone che mi scrivono. E in questo video appunto andrei a vedere cosa farei io principalmente e cosa consiglio di fare in queste situazioni economico-lavorative e pure di tempo. Infatti i fattori che influiscono su come iniziare, su quello che devi fare inizialmente, sono due. I soldi che tu hai a disposizione, quindi il budget che hai a disposizione per iniziare a investire, più soldi hai, più velocemente puoi appunto cominciare, più cose puoi fare inizialmente. E il tempo, se tu magari appunto hai assai tempo a disposizione, perché appunto non hai bisogno di fare soldi nell'immediato, allora appunto avrai più tempo per lavorare e fare tante cose. Invece se tu hai un bisogno di meno di soldi, ma appunto ti servono soldi subito, allora le cose cambiano, perché dovresti fare qualcosa più velocemente, per fare le venite più velocemente. La prima situazione è quella che ho visto, però non è quella più comune, ovvero che molte persone hanno zero soldi, cioè hanno pochissimi soldi, o hanno proprio zero soldi, dicono appunto io non ce la faccio, perché magari sì lavoro, ho poco tempo, però ho zero soldi naturalmente. Non mi bastano i soldi, magari lo stipendio non mi basta per appunto avere i 100, 200, 300 ore in più ogni mese da poter investire. Perfetto. Non è la situazione ideale, però si può fare sempre qualcosa, non si deve arrendere in questi casi. Quello che farei io, principalmente, è puntare su qualcosa che appunto mi richiede zero soldi, oppure con spese minime, tipo 10, 15 euro. Quello che farei io semplicemente è questo. Punterei sui contenuti online, ovvero aprirei magari un canale YouTube, un blog, oppure non so, un podcast o un profilo Instagram, in base a quello che ti piace fare. Se ti piace fare video, appunto, fare un canale YouTube. Se ti piace scrivere, ma non ti piace fare video, appunto, fare un blog. Se ti piace parlare, ma non ti piace scrivere, allora fai un podcast e così via, oppure puoi lanciare un profilo Instagram. Quello che vuoi lo puoi fare. Io ci ho fatto anche dei corsi a riguardo, quindi su tutte queste cose le puoi andare a vedere sempre, nella playlist questa volta Digital Marketing. Comunque, facciamo finta che, appunto, io voglio, sono appassionato di bodybuilding, non ho soldi. Cosa posso fare? Nel tempo libero, magari un'oretta al giorno, posso scrivere, posso aprire un blog, lo faccio con WordPress, mi costa 15-20 ore al mese, con l'hosting, appunto. Apro questo blog e ogni giorno scrivo un articolo. Mi letto lì un giorno, scrivo un articolo, magari faccio uscire tre articoli a settimana, faccio crescere questo blog. Il primo mese magari prendo 100 visitatori, il secondo mese prendo 300 visitatori, il terzo mese prendo 1000, il quarto mese prendo 10.000 e così via. Ogni giorno, ogni mese che passa, cresco sempre di più. E questo lo faccio, prima di tutto a costo zero, cioè mi costa 20 euro al mese l'hosting di WordPress, e poi lo faccio nel mio tempo libero. Quindi ho sempre il mio lavoro, magari appunto il mio lavoro classico, quello che tu hai, e mi metto un'oretta al giorno e lì quando torno a casa. Perché, dai, sono stanco, devo fare sacrifici, magari non esco fuori con i miei amici, magari non vado a festeggiare la sera ogni sera fuori, però in questo momento di quarantena lo puoi fare, perché appunto siamo, diciamo, più a casa rispetto al solito, puoi scrivere un articolo. Appunto, magari sei appassionato di palestra, di bodybuilding, sei a scrivere, apri un blog sul bodybuilding. Cosa succederà? Succederà che fra un paio di mesi tu comincerai ad avere un sacco di persone che visitano il tuo blog ogni giorno. Magari avrai appunto, non so, 1000 persone o 500 persone che leggono i tuoi articoli ogni giorno. Quello che puoi fare è inserire, è lanciare uno store di e-commerce relativo alla nicchia del bodybuilding. Appunto, se tu hai un blog di bodybuilding, lanci un e-commerce in dropshipping su bodybuilding. Dove vendi, non so, dei cosi, dei polsini per spingere pesi, oppure vendi all'abbigliamento, qualsiasi cosa relativa appunto alla nicchia. Quello che puoi fare è andare negli articoli e a fine articolo li scrivi e comunque ho lanciato questo store di e-commerce mio, personale, dove vendiamo dei prodotti. Se vuoi, comprali. Due cose sono importanti da notare. Prima di tutto che le persone si fidano di te, che appunto, leggono i tuoi articoli, sanno che tu sei una persona che è brava nel bodybuilding e quindi si fidano di te e sono più propensi a comprare. E poi è che è traffico gratuito. Cioè non devi pagare Facebook Ads, non devi pagare Influencer Marketing, perché appunto è già una piattaforma, una community, una audience di persone a cui puoi promuovere il tuo prodotto. Quindi promuovere il costo zero. Questo è quello che farei io personalmente. Se non ho soldi a disposizione, se non avessi soldi a disposizione, però del tempo, magari un'oretta al giorno. Ci vuole tempo, sì. Ci vuole sacrifici, sì. Ma per tutto ci vuole tempo a sacrifici. Fare soldi facili in un giorno, sappiamo che non si può fare. Quindi questa è la prima situazione. La seconda situazione è quella quando le persone, quando tu hai un po' di soldi, tipo tra i 200 e i 1000 euro, e hai un po' di tempo, c'è sempre un'oretta al giorno, due orette al giorno da poter fare qui. Quello che ti consiglio di fare, e te lo spiegherò poi nello step successivo, ovvero che, te lo anticipo ora, se tu non hai più di 1000 euro, non devi fare Facebook Ads. Facebook Ads funziona bene, e lo spiego anche poi nel corso mio quello che ho fatto, se tu hai più di 1000 euro, idealmente più di 1400-1500 euro. Comunque, facendo finta che tu appunto abbia meno di 1000 euro, in questo caso non ti conviene fare Facebook Ads. quello che potresti fare è o Google Ads, Google Shopping Ads, o Google Ads, sono due appunto cose diverse, che ti richiedono un po' meno soldi, tipo ti richiedono 600-800 euro per farle funzionare bene, oppure, ancora meglio, che quello che ti consiglio, fai influencer e marketing. Ci ho fatto pure un corso a riguardo contatti degli influencer o delle pagine, paghi 40-50-100 euro per una sponsorizzazione, anche di meno alle volte, con le pagine si prendono tipo 10-20 euro, si hanno tipo 30-40 mila followers. E ti faccio un esempio, magari tu appunto fai un posto sponsorizzato da una pagina che ha 40 mila followers, di questi 40 mila followers ti costa tipo 20 euro fare appunto un posto sponsorizzato da te, appunto dove sponsorizzi il tuo prodotto e il tuo store. Quello che succede magari su queste 40 mila persone, 2, 3, 4, se ti va male appunto, se fai tutte le cose giuste, il prodotto è bello, ci sono sempre quelle 2, 3, 4 persone che comprano, e appunto tu recuperi quei 20 euro. Ripetiamo però una seconda volta, eh, sono 20 euro. La maggior parte delle pagine a tema, che hanno tipo 20, 30, 40 mila iscritti, ti prendono tipo 20 euro apposta per 24 ore, quindi è pochissimo. Ti basta fare una, due vendite per andare sopra. Dopodiché tu continui a rinvestire i soldi, magari appunto con 30 euro ne guadagni 100, questi 100 euro li prendi e li rinvesti. Li rinvesti nella stessa pagina, nelle altre pagine, con altri influencer, ecco, magari ne fai 200, oppure 250, li prendi e li rinvesti, finché non arrivi appunto a 1000, 1500 euro. Lì appunto prendere questi soldi e li rinvesti in Facebook Ads. Invece infine se hai molti soldi, tipo hai più di 1000 euro, idealmente appunto 1500, 2000 euro, anche 3000 alle volte le persone hanno, puoi fare un pochettino quello che ti pare. Perché con i soldi, io dico sempre, i soldi nel mondo del dropshipping, dell'e-commerce, ti servono per acquisire tempo. Cioè più soldi hai, meno tempo ti serve per fare le vendite, meno tempo ti serve per lavorare. Perché, ti faccio esempio, i blog, i video su YouTube, l'influencer marketing richiede uno tempo, perché devi stare sempre lì a creare appunto campagne, a scrivere articoli, a fare video. Facebook Ads ti richiede meno tempo, perché tu lanci le campagne e poi le campagne appunto si fanno alla sole, diciamo, le devi solamente ottimizzare, devi solamente aggiustarle, però è meno lavoro rispetto alla solida. Quindi appunto, perché Facebook Ads, perché quello che ti consiglio personalmente, è che se tu hai più di 1000 euro, idealmente 1500 euro, puoi fare subito Facebook Ads, oppure puoi fare YouTube Ads, Google Ads, quindi pubblicità online, sui social media. Perché pubblicità online? Perché pubblicità online è molto più veloce. Ti costa di più, perché appunto hai bisogno di più soldi per farla funzionare, però ti funziona meglio, ok? Ti funziona molto più velocemente. Tu in una settimana, o anche meno, sei lato di capire se appunto il tuo prodotto, il tuo store fa delle vendite oppure no. Naturalmente, se tu hai il lavoro, cominci a fare magari, non so, le prime vendite, non dire lasci il lavoro, perché è sempre un rischio, devi ancora capire se è una cosa definitiva. Lanci il tuo store di commerce, solo appena tu vedi che fai magari, non so, 20, 30, 40, 50 vendite al giorno, allora in quel caso capisci che è una cosa, diciamo, lo store funziona davvero. Passano tre mesi, dopo tre mesi appunto dici, ok, lascia il mio lavoro, lascia quello che sto facendo, mi dedico full time a questo progetto. se poi il progetto non dovesse funzionare, magari fra un anno o due anni fallisce, naturalmente non devi farlo fallire, devi essere anche bravo in questo, allora in quel caso poi, ti inventi di nuovo. Detto questo, spero sia stato utile, inoltre, se tu hai sempre dubbi, puoi andare nel gruppo Facebook, ho detto appunto, di commerce e pubblicità, c'è il link in descrizione, oppure mi puoi andare un messaggio su Instagram, su Instagram mi trovi Matteo di Cri, ok, mi mandi un messaggio, io se lo leggo te lo accetto e poi parliamo un pochettino là appunto di questo. Inoltre, come al solito, se ti è piaciuto il video, metti mi piace, fammi sapere nei commenti qual è la tua situazione, in modo da che possiamo parlare direttamente nei commenti, in più, iscriviti se non l'hai fatto, attiva la campanella della notifica, quella che fanno appunto queste cose, dicono i youtuber e quelli professionisti, e poi, e poi baser, che le cose lo finire da dire, se ti è piaciuto il video appunto, guarda quello che c'è dopo, perché appunto, niente, non so più nemmeno quello che devo dire. Detto qua, questo video è finito e noi ci vediamo al prossimo. Bye!